Napoli è stata una delle prime ad aderire alla festa della musica nel lontano 95 proprio perché è una capitale, nonostante non sia capitale di uno Stato, è una capitale della musica sicuramente in Italia e nel mondo. In questa edizione come al solito vedremo una cosa fondamentale, Napoli con la sua voglia di nonostante tutto portare la gioia tra le persone, la musica non tanto nei luoghi deputati a farla, teatri, sale di musica eccetera ma per strada tra le persone, nei monumenti, nei luoghi storici, nel vissuto della città, quindi nel quotidiano per un giorno che poi in realtà a Napoli diventano quattro proprio perché c'è tanta voglia di esprimersi e di stare insieme attraverso la musica appunto. La festa europea della musica con la quale in tutta Europa si saluta il solstizio d'estate, a Napoli sarà un inno alla gioia con spettacoli musicali gratuiti che oltre alla tradizionale giornata del 21 giugno si estenderanno per un'intera settimana dal 17 al 24. Numerosi enti d'associazioni, luoghi pubblici e privati hanno aderito ad un programma di iniziative che avrà il prologo nel concerto di cento chitarre del maschio Angioino, attraversando poi i generi musicali più vari, per chiudere con un carro di Tespi che partirà da Monte Calvario per raggiungere di nuovo il cortile del maschio Angioino ed eseguire una versione originale dell'histoire di soldà di Igor Stravinsky. Sì 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 ci sono tante iniziative devo dire veramente tra l'altro bisogna sottolineare che sono tutte iniziative spontanee dove non c'è nessun interesse economico anche se spesso chi partecipa si sottopone a delle spese e ha una fatica enorme pur di portare tra la gente questo messaggio e quindi bisogna solo ringraziare tutti gli artisti napoletani che ogni anno partecipano. C'è musica fatta da giovanissimi o da grandi musicisti, addirittura un ensemble di cento chitarre che per la prima volta nella storia suonano tutte insieme in un numero così elevato, c'è la fanfara dei Carabinieri che apre e chiude a San Giovanni nella festa del Santo Patrono per testimoniare l'impegno dello Stato contro l'estese, contro la camorra, contro la violenza. Direi che è una grande festa contro xenofobie, razzismi, violenza, bruttezza diciamo e l'anima vera dell'Europa che risuonerà in ogni angolo del nostro continente, la vera anima dell'Europa, sono le vere radici autentiche radici d'Europa e in questa grande festa risuona Napoli credo veramente in modo straordinario.